Siamo con Elisa Coronetti di Croci che ci presenterà i nuovi prodotti di Croci e per la Smart Solutions per pets. Buongiorno a tutti, questa è Domus, la cuccia tecnologica concepita per offrire il massimo comfort a gatti e a cani di piccola taglia. La sua tecnologia le permette di gestire la temperatura interna, si può passare dai 15 gradi ai 35 gradi, la si può utilizzare quindi sia in estate che in inverno. Il calore o il raffrescamento parte dal centro della piastra e si irradia ovviamente all'interno dell'abitacolo. È dotata anche di un sensore infrarosso che consente di attivare la luce e i suoni quando l'animale entra per poi disattivarsi a seconda del movimento che rileva per far riposare il cane o il gatto. L'altra particolarità che ha è quella di avere cinque suoni rilassanti concepiti proprio per offrire il massimo relax all'animale, sono suoni della natura, suoni delle fusa del gatto, nel caso del micetto ovviamente gli consentono un grandissimo rilassamento, ha un basso consumo energetico, anche questo è molto importante perché consuma più o meno come un cellulare attaccato alla corrente ed è un oggetto di arredo che sta bene in qualsiasi istanza. L'altro prodotto della linea Smart è la fontana acqua. La fontana è sicuramente un elemento molto utile sia per il gatto che per il cane di piccola taglia ma semplicemente per ragioni di dimensioni perché consente di avere sempre l'acqua fresca e pulita. È una fontana Smart perché è dotata di un sensore che permette di avvisare quando l'acqua non è più bevibile e questo è molto importante, il sensore si chiama TDS e avvisa ovviamente il padrone quando è necessario cambiarla completamente. Ti avvisa anche quando finisce l'acqua quindi è necessario riempirla e quando bisogna cambiare il filtro. È dotata infatti di un filtro multistadio all'interno che consente di eliminare cloro e metalli pesanti, rendere quindi l'acqua sempre fresca, sempre pulita e invogliare l'animale a bere che fa bene ovviamente anche il suo benessere fisico. Tantissimi gatti abbiamo anche da rubinetto per intenderci e la fontana è sicuramente una validissima alternativa. Ha richiesto una manutenzione molto minima, ha semplicemente una pulizia della pompa periodica ma comunque lei è in grado di avvisarti quando ha bisogno di sostituire l'acqua e di fare un refill. In abbinamento alla fontana abbiamo anche stilla che è un tappetino sotto ciotola in silicone. Facilissimo da pulire perché si sciacqua semplicemente sotto l'acqua e si può mettere anche la vasoviglia ed è importante perché sia gli schizzi d'acqua che si può mettere anche sopra le ciotole che eventuali fuori uscite di acqua vengono bloccate da questo bordo rialzato. Questo permette di salvaguardare ovviamente il pavimento e di mantenere l'igiene dell'ambiente in cui la fontana o la ciotola viene posta. Disponibilità sul mercato e i costi? Allora i prodotti sono disponibili in tantissimi negozi sul nostro sito online. Il costo al pubblico è indicativamente di 69,90 per quanto riguarda la fontana smart e di 190,90 per quanto riguarda la cuccia d'olus. Grazie.